buongiorno a tutti e rieccoci con il quarto capitolo di uncharted eravamo arrivati a drake che praticamente ha arrottamato l'elicottero non so se vi ricordate è atterrato ha perso elena ha perso la mappa ha perso no la pistola c'era la pistola ha perso e già è qualcosa questo è il capitolo che non so perché non è uscito doveva risparmiare sul titolo comunque si ritrova lo schianto è chiuso vabbè ormai l'avrete capito che drink non si ferma davanti a niente dai ecco appunto allora adesso chiaramente è entrato nel vivo della storia il personaggio l'avete già visto no la cosa bella è che avevamo appena trovato il fucile maledizione ci hanno chillato i saldi da dove devo andare forse da qua no aspettate mi verrà a mente non mi ricordo l'ho fatto l'ho giocato molto tempo fa quindi non mi ricordo tutto e questo è il bello dei videogiochi che dopo un po' puoi rigiocarli guardate per se è bella però la fauna è fatto bene allora adesso praticamente cosa stiamo facendo se non avete visto i video precedenti non capite stiamo andando a vedere se elena è sopravvissuta che si è lanciata col paracadute e che più e dovremmo recuperare se non sbaglio il diario la mappa no lo spieghiamo col piede vai facciamo gli scegli ecco qua equilibrio no no è una cosa cazzo ho detto ole è bravo vuol dire che non sei cieco ti vedo anch'io e non mi vedi più adesso ora mi vedi ora non mi vedi più ok ma però dobbiamo trovare delle munizioni perché qua non andiamo avanti non cadere mannaggia drink mannaggia devi andare sul tronco ma che c'è di difficile oh non cadere non mannaggia ci arrivi dall'altro lato ok ok poi all'equilibrio non è so forte vabbè eh dai questi tutti con le pistole ma nessuno con che ne so un carro armato una combo e non mi piace la combo ti ammazzo così oh a merda allora queste invece sono le granate che non so come si vedono ecco vedete ne abbiamo due di quattro le granate praticamente cosa fanno allora praticamente ora vi faccio vedere cosa fanno le granate non qui però qua le spieghiamo aspetta ancora è più oh nella mezza allora vabbè le granate che fanno esplodono in buona sostanza non è che chissà che fanno anneggia la miseria io però scusate mi sono sfruttato di realizzare il volume e se non alzo il volume non si sente un H ok e continuiamo infatti ma mi sembrava muto anche a me di come non parlo oh adesso adesso è più vivo adesso adesso ci spezziamo qualcosa allora cerchiamo anche se non è il nostro stile ma cerchiamo di non farci scoprire allora Drek può essere anche furtivo è molto difficile ma può essere anche furtivo ah 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 in testa mi vedi bravo vuol dire che non sei cieco anche tu aspetta mettiamoci d'accordo ok allora oh tu muori là poi annaggia la miseria accidenti è colpa tua Drek perché l'hai ammazzata in destra ah eccoti dove sei ovviamente deve caricare nei momenti meno opportuni ok è ok un cacchio è ancora vivo no è un altro eh chi è che spalla spalla per non cedere ah cominciamo ah 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 che fallo io quello aspettavo che qualcuno andava vicino al barile di non so se sono finite ok cominciamo a raccogliere munizioni a più borso anneggia salona ti piace il ok quale cosa si mettono male no 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 non mi fare questo non mi fare questo ok le cose si mettono veramente male con le cose si mettono veramente male ok forse già abbiamo fatto questo è un altro fucile che non mi piace molto però lo piglio giusto per farvelo vedere è il mos si chiama non non è efficace a breve distanza devo ricordarmi come si sale ecco non mi ricordavo male se saliva da qua basta basta dai dove stai allora alzati e poi non mi ricordo nemmeno come si lancia la granata ah ecco ok ho capito allora aspetta boh bravo ti sei ammazzato da solo io questo aspettavo e poi e la e la ah no ecco allora avete visto come si usa quel fucile la è un fucile potente è un fucile potente però bisogna essere appunto vicino ai nemici altrimenti è un zerb accidenti e dai cacchio oh muori o no oh viene viene venite venite allora mi dovete scusare ma devo cambiare fucile perché allora usiamo una granata ecco si usa così la granata possibilmente però la dobbiamo tirare dov'è il nemico eccola visto che capriola che ha fatto tranquillo non sparo per sparo per uccidere vieni raga raga vuoi morire io no ah madonna è fissato questo ti sei scoperto abbiamo ripreso il mosse va bene non va bene ma questo abbiamo provato ma non mi ricordo bene da dove dobbiamo andare ma allora tutto questo per colpa di chi? di Elena che è caduta allora questo fucile qua è buono però però siamo sempre lì c'è un'altra area allora si usa così questo uno due tre vabbè chiaramente raga una cosa del genere scordatevela di farla a distruttivo qual'ha difficoltà maggiore eh eh lo vedi? attendi anche a loro perché pure loro lo sanno sanno usare per fuggire se si avvicinano con quella là siete morti questo qua è micidiale è micidiale perché non perché purtroppo basta che ti viene vicino boom e ti dà un colpo che ti ti manda nell'altro mondo il migliore per adesso è la K e l'avete visto perché L2 aspetta quando dice L2 ecco deve mostrarci qualcuno che è crepato allora qui dove si va nella cascata ma anche no ma anche sì guarda là bene lavaggio completato ok adesso che ti sei lavato cerchiamo di di andare senza morire no 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 ok ci siamo ci siamo ci siamo perché non sali direi che perché non sali ma perché mi devi fare queste cose ok allora vai salta maledizione ma dico io vi sembra questo il modo è il tempo oh ma vedete che mi sto arrambicando rischio di morire ma che cacchio volete aspettare che arrivo vicino e poi vi ammazzo oh e non c'è più rispetto allora no Drake non ti Drake non ti fa venire niente Drake non ti ammazzo io allora vai là sali 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 ammucciati no non c'è nessuno vai no guardate questa paura oh 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 si allora non so quale santo mi ha aiutato vabbè allora tu trasporti dinamite è il tuo più grande errore speriamo che li ha assicurato sulla macchina va bene noi siamo saliti mamma mia c'è questa cascata che fa un rumore che per la miseria non fa sentire e no e no aspetta e no ma perché sembra così perché sembra così eh guarda quello si tiene piede oh 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 guagliù eeeh via allora io a volte so stronzo no perché c'ho fucile perché devo usare la pistola non lo so va bene ha trovato le granate drake se vuoi carichiamo eh non è necessario però io ti consiglio caldamente poi fai come come credi come vuoi ma io ti consiglio caldamente drake sali drake ma perché allora ok ci siamo dove dobbiamo andare qua ci arrivi ci arrivi no l'aereo nuovo maledizione hai distrutto anche l'aereo drake ma ti rendi conto sei un pericolo guarda là guarda ma come si fa dico io eh ti dovevi anche far vedere mi sembra giusto oh guarda qua adesso ci ammazzano eh eh adesso ci ammazzano per forza perché perché allora scaputana aia assurduto allora mu purtroppo purtroppo le munizioni scarseggiano chi è che mi spara non ci vedi proprio in mezzo agli occhi ok hai detto tu eh allora non so mo che succede ma succede che se non ricarico siamo morti aia no 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 aspetta, certo con una precisione che fa bene una rabbia, ecco, addio riparo, ma che ok il cavolo che direi al treco non mi fa essere volgare, hai rotto l'elicottero, non ce ne possiamo andare di qua, non pare messo bene, eh ma va, è spezzato in due, eh smettila di pigliare sto fucilo, non ci serve a niente, dove l'hai messo quell'altro, mannaggia a te, mannaggia, dov'è? Rick, ti voglio bene, oh, non ci serve quel fucilo lì, è potente, non ti dico di no, ma non ci serve, dove l'hai messo, dove l'hai messo quell'altro, vabbè, ho capito, esasperante, vai, sali, allo Rick, guarda, questa è una fune, girati, vabbè, sale, come cacchio, ti pare, basta che sali, ok, eh, mo ci dobbiamo ammazzare in quest'altro moro, la mappa, prendi la mappa, dopo cadiamo, ma prendi la mappa, pegliala, e dai, oh, bella, sì, è bella, mo mettila in nasca e andiamo, c'è, Rick, zomba, ci rimaniamo qua dentro, eh, vedi come te lo dico, ci restiamo, no, no, eh, si, Elena è là, o almeno il suo paracaduto è là, appeso a quella specie di, di, dobbiamo scendere, sì, e ora, e ora ci ammazzano, eh, sono qua giù, sì, prendetelo, fermatelo, allora, un concetto che non avete mai capito è che dovete venire uno al lavoro, maledizio, ok, eh, vabbè, finiranno più un po', eh, no, ok, finalmente una ricarica di fucile come Cristo comanda, allora, non sono finiti, eh, mi stai sicuramente prendendo per i confronti, raga, cominciate a essere un po' noioso, ehi, 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 bravo, non so che hai fatto ma, sei grande, ti è caduto la granata, hai fatto bene, ma come fai a di sempre ok Rick usi l'ottimismo proprio spropositatamente eh affacciati che eseguo affacciati uccidetelo mamma mia allora tutti quanti mosso vabbè meglio di niente allora non è utilissimo questo fucile però ci sono delle volte che di meglio non ti dà quindi meglio un fucile ah no aspetta a posto allora abbiamo trovato la k è da questa parte voglio guardare dove cammino eh la trappa non l'avevi vista peccato l'hai fatta vedere a me e per questo ti ringrazio e no allora esisti Elena Elena dovrebbe essere lì ammesso che è viva io invece so qua ok dobbiamo arrivare là Drake ci dobbiamo arrivare vivi eh no mamma mia ok bene non ci so non bestemmiare se no per punizione prenda ma di e 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 veramente non ne posso più ssshiii silenzio qualcosa mi dice che non so finita all'animaccia sua oddio morto allora in pratica quest'arma qua ci ha ammazzato prima avete visto è un'arma micidiale vedete è un lanciarazzi non ha molte munizioni però però è pericolosa è pericolosissima vedete è pericolosissima perché nonostante ha pochi colpi è micidiale i nemici con quest'arma saranno abbastanza rari però vedete sono messi in punti strategici tipo questo era messo in alto allora vedete è necessario in alcuni punti perché sennò i nemici non li fai buoni le granate sono essenziali per procedere spariamo alla cieca allora praticamente praticamente niente allora qui potrebbe sembrare che è finito tutto ma non è finito tutto vedete queste trappole allora basta trovarne una ancora attiva e ci ammazziamo poi vi faccio vedere vedete basta passare sopra quella corda che il proiettile non vede vedete quella corda lì esatto giù giù e Drake si invizza e cosa succede in pratica succede che devi rifare tutto da capo perché sei morto quindi passiamo piano piano in mezzo a queste trappole ok beh ragazzi che arma abbiamo? ah abbiamo 15 allora anche per oggi è tutto qui comincia mi pare l'altro capitolo vediamo se lo faccio giusto partire un pochino praticamente siamo arrivati dove dovrebbe essere caduta Elena colpa era caduta il forte stai scherzandola? no non è finito si eccolo ah la fortezza scusate la fortezza non me lo ricordavo allora noi ci vediamo chiaramente nel prossimo video questo è venuto abbastanza lungo eppure non sono morto molte volte fatemi sapere cosa ne pensate Drek siccome abbiamo molti colpi sprechiamo in altri due Drek per salutarvi ok alla prossima ciao a tutti